Buongiorno amici! Sono Claudio di Vacanze Col Cuore e oggi parlo da Vallicella Glamping Resort. Sto qui perché voglio mostrarvi molte notizie per la prossima settimana. Puoi seguirmi nella mia viaggio per il nostro glamping. In questo momento sono in la bungalow area, bungalow per 4 o 6 persone e prepariamo un nuovo passato e un piccolo quadro per il vostro dinner e il lunch. Qui metteremo un nuovo tavolo e un'umbrella perché questo è un luogo bellissimo per il vostro dinner. In questo momento sono in un'area near the swimming pool e sto andando in un nuovo passaggio e qui puoi vedere il nuovo garden, near Chiosco, near Baby Club e near Swimming Pool. Nel nostro glamping siamo eco-friendly. In fact, in questo momento sono near the entrance perché stiamo preparando due piccoli perché vogliamo posizionare due stazioni di charge per l'elettrico. In questo momento sono in un'altra parte del nostro glamping e dietro mi puoi vedere il nuovo barbeque area. Poi metteremo un nuovo gazebo in wood e per l'arrivo. Poi metteremo un barbeque per il vostro lunch e il vostro dinner. Per ora è tutto. Poi vedremo questo summer nel nostro bellissimo glamping, Valicella Glamping Resort. Non dimenticare! Ciao ciao! 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 Ciao!